Il governo è con voi Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è rivolto in videocollegamento alle famiglie dei pescatori siciliani che stanno rientrando in Italia dopo oltre tre mesi di prigionia in Libia presenti all'incontro, secondo quanto si apprende, anche gli armatori dei pescherecci, Il sindaco di Mazzara del Vallo e il ministro Alfonso Donafede Non c'era però la moglie di uno dei 18 pescatori in polemica con il governo ce l'abbiamo messa tutta per riportate i pescatori in Italia prima di Natale E ce l'abbiamo fatta Quella di domani sarà una giornata storica, so che non vedete l'ora di vedere quelle imbarcazioni all'orizzonte Tanti auguri di buon Natale a tutta la comunità di Mazzara del Vallo, in particolare ai familiari e agli armatori, sono state le parole del ministro degli esteri Cristina Amabilino, moglie di Dino Salvo, ha deciso di non partecipare al collegamento in videoconferenza con Di Maio Sono felice che tutti siano stati liberati ha detto in un improvvisato incontro con i giornalisti nel cortile del municipio Ma non perdono al governo italiano il ritardo ha chignolato il sindaco di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, le ha risposto a distanza Non so e ha detto se si poteva fare più presto, ma ritengo che non sia mai mancato il sostegno delle istituzioni Conte e Di Maio hanno ricevuto i parenti, ma Tarella ha fatto sentire la sua presenza Forse qualcuno del governo sarebbe potuto venire in città durante il periodo della crisi Ma questo è il momento della festa